L'11 maggio organizziamo anche un importante evento a Bologna, presso la nostra sede Music Academy, Accademia di Musica Moderna. A confronto ci saranno Franco Rossi alla batteria, che è il fondatore dell'Accademia, con Skip Padre. Skip Padre non potrebbe essere stato batterista di Google Report e anche docente della Berkeley di Mostra. Quindi veramente è un'occasione rara, vi invito a prenotarvi e auguro a tutti una buona giornata. Ciao! Inoltre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per la Drum School AMM e Music Academy a Bologna, in via dell'Idraulico 1. Vi lascio i contatti in sovraimpressione.